Il giudizio espresso dalla Corte sul bilancio del 2016 e le puntuali osservazioni contenute nella relazione colgono veramente il senso preciso del lavoro che stiamo portando avanti con fatica ma anche con determinazione riportare la Regione Calabria su un binario corretto nell'uso delle risorse pubbliche. Lo afferma il Presidente della Regione Mario Oliverio che aggiunge nelle parole della Corte la denuncia dei problemi e delle difficoltà che ancora sussistono è sempre affiancata dal riconoscimento di un evidente cambio di passo operato in quest'ultimo periodo e, cosa ancora più utile e della quale ringraziamo veramente i magistrati contabili e la Procura spesso è accompagnata anche da indicazioni puntuali su come e con quali strumenti è possibile aggredire problemi annosi che gravano sulla Regione. Di fronte alle difficoltà e ai problemi non abbiamo messo la testa sotto la sabbia ma abbiamo deciso di intervenire non solo con correttive organizzative e normativi ma anche consapevoli che la vera sfida è culturale con azioni formative. È infatti ora di comprendere che il bilancio non viene dopo ma è il presupposto per costruire politiche pubbliche adeguate ed è anche ora di comprendere che la riforma dei sistemi contabili operato con il Decreto-Legge 118 incide tanto sulle modalità di gestione burocratica quanto sullo stesso modo di fare politica. Vox Clamantis in deserto. Sono rimasti inascoltati i nostri ammonimenti e segnalazioni sulla palese difficoltà della Regione ad impiegare e sfruttare appieno i fondi messi a disposizione dall'Europa. Tanto tuono che piove come si suol dire ed ecco che giunge l'amaro verdetto della magistratura contabile la quale sull'efficace utilizzo delle risorse strutturali per lo sviluppo della Calabria bocci il governo regionale presieduto da Mario Oliverio. Ad affermarlo è il presidente del gruppo di Forza Italia in consiglio regionale Alessandro Nicolò. Carenza di progettualità e incapacità di incrementare la spesa sottolinea le voci in cui la Regione zoppica secondo quanto afferma la sezione della Corte dei Conti della Calabria nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2016. E' stata presentata nella sede del Consiglio regionale della Calabria la nuova offerta di servizi a mercato delle frecce Trenitalia di rilevante interesse per la mobilità nella Regione Calabria che sarà inaugurata con l'entrata in vigore del nuovo orario invernale il prossimo 10 dicembre. Alla conferenza stampa Reggio Calabria hanno partecipato per Trenitalia il direttore della divisione Longol Giampiero Stresciuglio ed il direttore regionale Domenico Scida. Per la Regione Calabria il presidente Mario Oliverio e gli assessori Roberto Musmanno e Francesco Russo. In particolare è stato annunciato l'avvio dei due nuovi collegamenti giornalieri veloci con frecce Argento che consentiranno di spostarsi tra la Calabria e la Capitale in meno di 5 ore. Si tratta delle frecce Argento 8351 Roma Termini Reggio Calabria e delle frecce Argento 8358 Reggio Calabria Roma Termini. Salgono così a 4 le corse veloci tra andate e ritorno che collegheranno le due città fermando anche a Napoli, a Fragola, Salerno, Paola, la Mezzeterme, Rosarno e Villa San Giovanni. Trenitalia ha anche annunciato il contemporaneo lancio del servizio Freccia Link tra la Mezzeterme e Catanzaro per collegare il capoluogo alla network delle frecce, testarne e soddisfarne la domanda con un servizio su strada comodo, veloce e di qualità pari a quella offerta dalle frecce. La Regione ha aperto un confronto con il Ministero dei Trasporti, con Trenitalia, abbiamo prima ottenuto il risultato di evitare l'entratura della freccia d'argento nella stazione di Napoli guadagnando mezz'ora, adesso abbiamo insistito per la seconda coppia, la seconda coppia partirà con un nuovo rario ferroviario, con un treno che partirà la mattina da Roma per Reggio Calabria e la sera da Reggio Calabria per Roma, quindi abbiamo una seconda coppia servendo in modo più razionale e più rispondente ai bisogni della nostra Regione. Insisteremo naturalmente in questa direzione per rafforzare i servizi, ma soprattutto questo avviene in un quadro di strategie di politica dei trasporti che vede anche l'avvio dello studio di fattibilità per che l'alta velocità possa raggiungere Salerno fino a Reggio Calabria e quindi completare pienamente quella che è la linea che parte da Milano, da Torino, da Venezia verso Reggio Calabria. Si tratta di una nuova offerta che si raddoppia per quanto riguarda il segmento freccia-argento, è un servizio che Trenitalia fa a mercato, quindi risponde a una bellissima esperienza che è nata l'anno scorso con una prima coppia di freccia-argento, che è nata in collegamento tra Roma e la Calabria, fino a Reggio Calabria. Questa esperienza assolutamente positiva ha incoraggiato Trenitalia a sfidare ulteriormente il mercato, quindi con una nuova coppia. Io lo ridico sempre, la 106, la 106 intesa come strada, è fondamentale che finalmente i lavori partano. Il miliardo e cento milioni è lì, adesso oggi abbiamo chiamato dal treno il capo dell'azienda, Staldi, ci ha raccontato, ci ha spiegato che stanno facendo le progettazioni e che i campieri saranno pronti a partire dai primi mesi del 2018. L'ammodernamento e la messa in sicurezza della strada statale 106 ionica deve essere una priorità assoluta. Lo ha ribadito il segretario nazionale del Partito Democratico Matteo Renzi durante il suo tour in Calabria dei giorni scorsi. Gli ha fatto eco ai nostri microfoni il presidente della giunta regionale, Mario Oliverio. Dobbiamo recuperare anche nella 106 il presidente per l'impegno con il Masticcio? Assolutamente sì, bisogna lavorare per questo. Noi dobbiamo recuperare ritardi enormi accumulati nel corso degli anni e stiamo con determinazione, stiamo lavorando in questa direzione. La Calabria sarà tra le prime regioni in cui saranno sperimentati i piani di integrazione dei titolari di protezione internazionale voluti dal Ministero dell'Interno. Lo ha detto Giovanni Manoccio, delegato della Presidenza per le politiche relative all'immigrazione intervenendo alla presentazione del dossier statistico Immigrazione 2017 che si è tenuta nella sala oro della cittadella regionale a Catanzaro. Il dossier, curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS con la collaborazione del Centro Studi Confronti, presenta un contesto che va continuamente modificandosi e in cui gli immigrati e i loro figli assumono una rilevanza sempre maggiore dal punto di vista demografico, economico, occupazionale e socioculturale. La Regione Calabria sta sostenendo la gestione pubblica dell'accoglienza che è quello dei progetti Sprar. Questo ha rivitalizzato tanti territori della Calabria. Se lei considera che 7-8 anni fa eravamo solo in 7 i comuni che aderivano alla Sprar e l'altro giorno a Taverna abbiamo siglato un accordo con il Ministro Menniti, con Lanci, con le prefetture siamo arrivati a 200, quindi il 50% del territorio calabrese, significa che quelle pratiche iniziate tanti anni fa con solo i 7 comuni sono diventate il verbo di questa regione. Un modello che evidentemente funziona, continua Manoccio, un modello di integrazione a cui si lega l'opera di diversi operatori e mediatori sociali e quindi che necessita del contributo serio di tanti professionisti. Noi sappiamo che per esempio in Calabria c'è un'economia fragile. La nostra scommessa è questa in questo momento, passare dalla ottima accoglienza e da questo sistema delle buone pratiche che si è sviluppato nel corso degli anni a una buona integrazione. Questa volta abbiamo gli strumenti, perché per la prima volta col Ministro Menniti è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il piano dell'integrazione. È troppo presto per dire cosa succederà, però in questo momento abbiamo gli strumenti per fare in modo che le comunità locali possano convivere con i nuovi residenti con la possibilità sia per quelli che ci sono nel territorio, i residenti storici, che i nuovi residenti che si possano creare forme lavorative, quindi di economia, che vanno ulteriormente a rivitalizzare i centri storici. Più di un terzo dei comuni calabresi, ovvero 190 comuni, hanno fatto richiesta di sprara, 140 hanno già deliberato, sottoscritto. L'accoglienza diffusa è la risposta migliore per alienare, allontanare paure, creare condizioni di vivibilità nei comuni, soprattutto comuni piccoli. Qualcosa di buono e di molto buono si sta muovendo nella Calabria? Il tutto considerando che è un'emergenza che potrà essere attutita o risolta a lungo termine, non è certo un'emergenza che nel breve periodo può essere risolta? Intanto oggi è stato messo un punto fermo perché non si parli di emergenza. Gli sbarchi, come avete ben notato, sono diminuiti nella regione Calabria. Quindi vi sono i presupposti perché a regime si possa davvero attuare un'accoglienza diffusa, capace di essere poi da ottimo presupposto per l'integrazione dei migranti. Reggio, com'è la situazione? Reggio è identica, se non con alcune peculiarità, a quelle delle altre province Calabre. Abbiamo, come è noto, la questione della tendopo di San Verdinando, abbiamo altre questioni ancora in piedi, però c'è grande volontà a risolverle nel più breve tempo possibile. Lorenzo Sibio, rieletto alla presidenza di Lega Copp Sociali Calabria. Presidente, tracciamo un po' i punti del futuro, il programma dei prossimi anni. Sì, sicuramente. È stata un'assemblea partecipata e anche molto costruttiva perché c'è stato un ampio dibattito sulle tematiche proprio sociali, di politiche sociali che ci hanno interessato come movimento cooperativo in questa regione. Siamo partiti da quello che avevamo lasciato come impegni nel precedente congresso e dei risultati anche ottenuti. Noi pensiamo all'impegno che abbiamo svolto insieme agli altri componenti del terzo settore e alle altre organizzazioni nella riforma del welfare che la Calabria finalmente dopo 17 anni di ritardo, 25 anni di ritardo, scusatemi, ha iniziato ad attuare. Quindi siamo soggetti attivi, soggetti partecipativi in questo territorio, in questa Calabria per far migliorare le politiche sociali di questo territorio. Migrazione è problema o risorsa barra opportunità? Beh, risorsa barra opportunità per i cittadini perché accogliere persone che provengono da altri territori non può altro che essere una risorsa sulla quale dobbiamo vedere con ottimismo rispetto al futuro. Certamente fa paura e quindi l'accoglienza è sempre stato un problema e sempre lo sarà. Diciamo che quando si fanno percorsi di accoglienza e di integrazione fatti bene, come fanno le cooperative sociali, grazie al lavoro dei propri professionisti che sono assunti con un contratto di lavoro, sono formati e quindi sono persone assolutamente competenti. Ecco, quindi quando ci sono azioni di qualità allora l'integrazione avviene e questo è un bene per i territori e per tutte le persone. L'obiettivo di Lega Coop in questa fase è, ed è stato, proseguire, continuare ad assistere le cooperative per andare oltre la fase di crisi dalla quale ancora in Calabria non siamo usciti. Come tentiamo di assisterle? Intanto ragionando su tutti i percorsi che portano verso nuove attività che ci aiutano a traguardare il cambiamento che c'è stato e quindi rigenerando le attività che si fanno, ricostruendo anche percorsi nuovi imprenditoriali all'interno delle cooperative che ovviamente come obiettivo hanno quello di mantenere il lavoro ai soci alle migliori condizioni. Questo lavoro di cambiamento non solo ci ha aiutato in effetti a mantenere le cooperative che avevamo nonostante le difficoltà, ma oggi possiamo dire che abbiamo anche lavorato sulla costruzione di nuove cooperative perché è importante continuare a far nascere nuove imprese cooperative. Nell'arco di due anni il centro storico di Catanzaro vivrà un nuovo splendore, lo ha annunciato e assicurato ai nostri microfoni il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo tracciando ed illustrando le linee degli interventi già pianificati. E poi portare un'accademia come Belle Arti, 300 ragazzi nel centro storico, accanto abbiamo anche sociologia, partiranno i master a novembre, inaugureremo anche Palazzo Fazzi, poi abbiamo avuto anche finanziamento per la scuola Maddalena che verrà recuperata come abitazione per i militari e quindi un forte recupero nei palazzi nel centro storico e poi aspettiamo il bando per l'edilizia sociale per poter insediare anche i giovani universitari perché fra due anni avremo la metropolitana, sarà comodo dal centro storico arrivare con la fermata direttamente all'interno dell'area dell'università. Quindi è il progetto che abbiamo disegnato sulla città, ho detto ai miei concittadini dateci il tempo ma fra due anni il centro storico vivrà un momento di grande soddisfazione per noi, di grande vivacità per via dei ragazzi di questi corsi universitari che porteremo al centro. Una pillola anticoncezionale dimenticata, un rapporto sessuale occasionale o una violenza subita. Situazioni diverse ma che potrebbero avere un'unica conseguenza in comune, una gravidanza indesiderata. Tutto quello che viene dopo è senza dubbio una delle scelte più sofferte nella vita di una donna. Interromperla tramite l'aborto noto anche non a caso come interruzione volontaria di gravidanza. È dal momento che è proprio la donna a decidere se portarla a termine valutando le proprie condizioni di salute e nonostante la legge 194 preveda la possibilità di praticarlo, non sempre è possibile applicarla a causa dell'alto numero di medici che si rifiutano di fare questo tipo di operazioni, i cosiddetti obiettori di coscienza. A Cosenza in particolare c'è un solo ospedale autorizzato, quello dell'annunziata, dove solo pochissimi medici non fanno obiezione sulle interruzioni di gravidanza volontarie e dove non vi è un centro a un reparto completamente dedicato alle IVG. Il 17 ottobre scorso, con la delibera numero 454, l'azienda ospedaliera di Cosenza ha ratificato il protocollo di intesa con il gruppo imprenditoriale I Greco, ospedali riuniti SRL per il servizio di interruzione volontaria di gravidanza chirurgica. Una clinica, quella del Sacro Cuore, privata ma accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e quindi autorizzata a praticare questo tipo di procedure. Non si tratta dunque della privatizzazione di un servizio sanitario essenziale ma dell'offerta alternativa rispetto ad una prestazione che continuerà, come sempre, ad essere erogata anche da una struttura pubblica. Un argomento forte che ha provocato l'immediata reazione del centro antiviolenza Roberta Lanzino contro la scelta di consentire ad un gruppo privato di effettuare questo tipo di intervento. Il protocollo di intesa è scritto nel comunicato dell'azienda ospedaliera non nega nessun diritto alla salute, né preclude alcuna facoltà di scelta alle donne che volessero comunque decidere di essere assistite in ospedale. Le interruzioni di gravidanza chirurgica e continua la nota continueranno ad essere eseguite nel reparto di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale di Cosenza. Un diritto per le donne di poter scegliere se interrompere o meno la gravidanza, un diritto quello di poter decidere dove e se praticarlo. In Italia sono circa 400.000 gli affetti dai disturbi dello spettro autistico, molti dei quali bambini. Contro l'autismo non c'è ancora una cura definitiva e molti lati della patologia restano oscuri. L'autismo si manifesta nella prima infanzia ed è caratterizzato da diversi sintomi, menomazioni dell'interazione sociale, della comunicazione, interessi ristretti e comportamenti ripetitivi. A fronte di un disturbo molto complesso e diversificato, l'Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato una forte eterogeneità dei territori sotto il profilo della qualità e della quantità dei servizi di assistenza per l'autismo, con le regioni del nord che fanno registrare performance migliori rispetto a quelle del mezzogiorno. A Nicotera, il centro di urno specializzato per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, è l'unico in Calabria, che vede coinvolti nella gestione il pubblico e il privato e il cui modello organizzativo ha suscitato l'interesse nazionale. Il piano attuativo del progetto prevede due accessi settimanali di quattro ore, con un trattamento di tipo intensivo ed individualizzato. Il metodo psicoeducativo cosiddetto ABA è il coinvolgimento diretto dell'Associazione Nazionale Genitori Autistici di Vibbo Valencia, ma anche degli istituti scolastici. Trovo un'espressione diretta in un territorio come il nostro, dove questa collaborazione non è stata sempre facilitata. Il fatto che a Vibbo ci siamo riusciti in questo progetto proprio di collaborazione, come dicevo, pubblico privato, dimostra che tutto si può fare e si può fare anche nei territori difficili come il nostro. Beni per 217 mila euro sono stati sequestrati dai finanzieri del gruppo di La Mezza Terme nell'ambito di un'operazione coordinata dalla locale procura della Repubblica, che vede indagati un commercialista Gianfranco Antonello Muraca ed un noto imprenditore Giuliano Caruso, per usura gravata, commessa i danni di un operatore economico operante in città. Il caso, secondo quanto si apprende, è risultato di particolare interesse investigativo, in quanto è stato disvelato un complicato sistema illecito di prestito usurario, al quale gli indagati hanno tentato di dare parvenze legali, distorcendo a proprio vantaggio complicate strutture giuridiche. È stato infatti scoperto dai finanzieri che l'imprenditore, vittima dell'usura, nel momento più grave di difficoltà finanziaria della sua azienda, è stato costretto a sottoscrivere un contratto di associazione in partecipazione regolarmente registrato, con il quale accettava dagli usurai l'apporto di capitali per 250 mila euro, che avrebbe dovuto restituire mediante il versamento di rate ai mensili, con interessi pari ad oltre il 27% annuo. Aumenta il numero degli incidenti stradali in Calabria in controtendenza rispetto al dato nazionale. Nel 2016 nella regione si sono verificati 2.851 sinistri che hanno causato la morte di 117 persone e il ferimento di altre 4.868. Rispetto al 2015 aumentano sia gli incidenti più 4.3% che i feriti più 3.6% con incrementi percentuali molto superiori a quelli rilevati nell'intero paese, rispettivamente più 0.7% e più 0.9%. Il numero di vittime della strada ha un trend opposto a quello nazionale. In Calabria si registra un aumento del 24.5%, mentre in Italia si registra un calo del 4.2%. I dati sono emersi da uno studio dell'Istat. I programmi d'azione europei per la sicurezza stradale per i decenni 2001-2010 e 2011-2020 impegnano i Paesi membri a, si legge in un comunicato dell'Istituto di Statistica, conseguire il dimezzamento dei morti per incidente stradale con una particolare attenzione nel decennio in corso agli utenti vulnerabili. Dopo gli allestimenti di Trento, Roma, Milano, Torino e Padova, la mostra a colpi di matita La Grande Guerra nella Caricatura è approdata nel Museo Storico Militare di Catanzaro per rimanere a disposizione del pubblico fino al 3 dicembre prossimo. La mostra a colpi di matita è costruita sulla base di una ricca collezione privata e vuole proporre pertanto un percorso tra le pagine, alcune in originali, delle più importanti riviste illustrate europee di satira politica, tra le quali una ricca collezione privata composta da 15 riviste di satira politica europea, oltre mille immagini individuate, 306 immagini selezionate, 67 diversi artisti. L'esposizione a cura di Kurti Feninger e Rodolfo Tajani racconta la guerra attraverso l'abilità e la vena creativa di tanti caricaturisti che hanno lasciato traccia del loro lavoro nelle pagine di riviste e giornali di satira politica e nasce dalla proposta congiunta di Fondazione Museo Storico delle Trentino e Musmi. Nell'ambito del protocollo d'intesa stipulato tra i due musei e le rispettive amministrazioni provinciali. Diciamo che è un primo passo, un passo concreto, una mostra che permette di raccontare un aspetto della Grande Guerra inedito, un aspetto legato alla rappresentazione della Grande Guerra, però è anche un segno tangibile di come due territori, due istituzioni culturali possono lavorare in comune. Noi nei prossimi mesi ospiteremo una mostra che viene proprio da Catanzaro, inserita nel centenario della Prima Guerra Mondiale, ma questo secondo me apre la strada ad occuparci anche di altri temi perché sicuramente la comune storia e anche la comparazione tra storie è un elemento di ricchezza per tutti. Oggi si tratterà di come la libertà di espressione sia stata resa possibile anche attraverso la satira, attraverso un linguaggio non codificato, alternativo, che spesso consentiva di superare le censure che durante la guerra noi sappiamo esserci state. Coinvolgimento delle giovani generazioni assolutamente sì, lanciamo anche un concorso per le scuole, si chiama il Sorriso Amaro, quindi un Musmi che si apre sempre di più, che è sempre di meno monumento e sempre di più contenitore culturale. Sì, una iniziativa che ha raccolto immediatamente il mio favore perché riusciamo in questo momento di grande difficoltà per le province anche di produrre un'attività culturale che ci fa uscire fuori dai nostri confini. Questo accordo col Museo Storico di Trento ci consente oggi di sviluppare una prima iniziativa che ci porta a valorizzare sempre di più questo museo all'interno del Parco della Biodiversità. Il Cruttone si arrende con onore all'Olimpico di Roma, alla squadra di Di Francesco, ma per i giallorossi capitolini non è stata una passeggiata avere ragione degli squali rosso-blu nelle mercoledì di campionato. Ci riescono soltanto grazie ad un penalty dubbio decretato dalla VAR. Nei primi 20 minuti scatenato il laterale romanista Kolarov. Ottimo il suo inizio di campionato. All'ottavo tiro al volo di sinistro che sfiora il palo a Kordaz fuori causa. Al nono minuto incursione in aria che porta alla rigore molto dubbio per fallo evitabile di Mandragora. Trasformazione degli 11 metri con qualche brivido affidata all'argentino Perotti. Poi ancora il terzino ex Manchester City protagonista alla diciassettesimo con un palo colpito su punizione calciata dalla fascia. La Roma prova ad accelerare, Zecco sfiora il gol più volte, clamoroso il suo incrocio dei pali, ma Kordaz è attento. Il Crotone fa paura alla Roma un paio di volte con un tiro di Pavlovich parato da Alisson, ma la gara dell'Olimpico termina 1-0. Ed ora dopo due trasferte come previsto in fruttuose per il Crotone. Testa e concentrazione alla gara di domenica all'uscita contro la Fiorentina. A questo punto non si può sbagliare. Non è che ci porti molto bene questo campo. Devo dire che l'anno scorso contro la Lazio ci hanno annullato un gol regolare. Oggi, chiaramente, valutando e considerando sempre la qualità della squadra che abbiamo incontrato, mi secca a prendere un rigore così. Anche perché io sono molto favorevole al VAR. Non ho ancora ben capito quando entri in gioco. Sembra che con il Crotone non funzioni mai. No, adesso senza fare magari del vittimismo, perché poi alla fine non ci serve. Dico semplicemente che io avevo avuto l'impressione, la percezione che fosse entrato lateralmente per cercare di stoppare un potenziale tiro. Però poi rivedendolo effettivamente mi è sembrato un po'... non si può neanche parlare secondo me di generoso. Per me non c'era e finisce con i punti. Io ho rivisto anche quello. Indubbiamente lui anticipa e poi viene toccato, ma io non darei mai nessuno dei due dei rigori. Nel senso che un rigore è un evento importante, un evento dove deve essere determinante proprio il fallo. Però non c'era neanche la munizione, perché non si è trattato di simulazione. Questo posso dirlo chiaramente. Poi conoscendo proprio il ragazzo, se uno arbitrasse Budimi difficilmente lo può munire per simulazione. Per il resto c'è tutta una partita, secondo me, giocata con quelli che sono le armi vere del Crotone. Rispetto alla partita contro la Samp c'è stata una prestazione davvero convincente e non abbiamo neanche rinunciato a ripartire, a giocare. Tra l'altro nel primo tempo siamo arrivati in un paio di circostanze dove non siamo riusciti a essere così determinati poi nella conclusione finale. Sono contento, perché non era neanche facile, visto che avevamo tre giocatori. Pavlovici intanto sta dimostrando che è un giocatore che una volta che entra in forma ci può dare una mano. Simici secondo me ha fatto davvero una bella partita. Lo stesso con Giovanni ha svolto alla grande il compito e stanno crescendo. Noi abbiamo bisogno di tutti i nostri giocatori. Peccato. Abbiamo fatto una grandissima prestazione contro una grandissima squadra. Peccato per il risultato, ma la squadra ha avuto un atteggiamento veramente positivissimo e ci aiuterà per le prossime partite. Per quello che posso dire io sono entrato in scivolata cercando di opporre il tiro di Kolorov. Non credo di averlo toccato, ma l'arbitro insieme alla varra ha visto così quindi non sta a me giudicare, non sta a me criticare che ho iniziato a giocare da pochissimo e ci sarà sicuramente la gente competente che si occuperà di questo. Battere la Fidelisandria per dar seguito allo spettacolare pareggio strappato con i denti a trapani nel secondo tempo dopo un inizio da paura. È l'intento del Catanzaro di Davide Dionigi che lavora a sodo in allenamento per arrivare pronto alla sfida di sabato agli andresi, attualmente ultimi in classifica. Il nuovo mister ci ha dato una scossa, abbiamo molto più aggressività, corriamo molto di più, quindi siamo tutti molto più concentrati, molto più aggressivi e io mi sto trovando molto bene con lui. Vabbè certo, quando ci sono quelli più grandi, quelli più esperti, certo che giocano più loro, che noi giovani dobbiamo imparare cose da loro. Io mi sto allenando, sto preparando una partita come se sono titolare, poi il mister è quello che decide, ma io cerco di trovarmi sempre il pronto. Certo, 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 penso che è un buon punto di ripartenza, ma pure visto contro Matera abbiamo fatto un'ottima gara, purtroppo è successo quello che è successo, ma secondo me dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Trapani dove abbiamo messo tutto in campo, no, non penso. Adesso c'è da ripartire alla grande, a prendersi i punti e fare continuare bene, perché alla fine è solo quello che conta. Sono contento di essere tornato in campo, perché spero che me lo sono guadagnato in allamento in questi giorni da quando c'è il nuovo mister, quindi poi squalifica di infantino potrebbe farmi entrare di nuovo di più in squadra, a giocare un po' di più, però decide il mister. Grazie a tutti.